Ragazzi, oggi spacchettamento Ivershade mi sono arrivati pochissimi prodotti quindi faccio un video abbastanza veloce allora di cartaceo mi è arrivato il catalogo album 3 poi il nuovo catalogo album 4 che se vi interessa magari un video ve lo posso fare dal 19 di marzo e il 3 di noi fattura e i prodottini che sono veramente pochissimi stavolta però ho mandato l'ordine lo stesso perché c'era questa cliente che voleva alcune cousine allora come prima cosa mi è arrivato questo gel detergente per le mani all'olio d'oliva questo qui è bello grande da 300 ml non l'ho mai provato alla fragranza all'olio d'oliva però deve essere molto buona poi come secondo prodotto mi è arrivato questo gel doccia da uomo freschezza vetiver da 200 ml questi qui sono molto molto rinfrescanti forse anche per l'estate sono ottimi perché rinfrescano davvero la pelle poi sempre da uomo mi hanno ordinato il gel doccia ma quello è la menta glaciale anche questo ottimo bello azzurro poi mi è arrivato un gel doccia culture bio all'olio d'argan fantastico un altro sempre culture bio però al burro di karité questo cliente ha voluto provare un po' di gel doccia probabilmente gli sono piaciuti l'altra volta quindi anche questo poi mi hanno ordinato questo che è uno smalto pastello e smalto brillante indurente eccolo qui numero 02 non si vede questo qui molto carino il colore poi mi hanno ordinato questo farò il mio amoroso un balsamo dopo barbara l'olio e vera eccolo qui ottimo veramente è una fragranza fantastica e per finire ho preso una cosina per me che mi era finita da un po' di mesi mi sono decisa a riacquistarla nonostante costi anche abbastanza per me 7-8 euro una matita occhi comunque vabbè è un colore bellissimo che questa colorazione insomma diciamo mi sono innamorata una delle mie preferite ed è appunto questo blu bellissimo e ora magari la apro per farvi vedere ecco qua vedete una glimmer stick così e la colorazione è questa che è veramente bellissima secondo me ok niente ragazze questi erano i prodotti che mi sono arrivati ordine veramente ridotto purtroppo come sapete con Ivershè non lavoro tantissimo e anche perché magari forse non mi impegno a cercare clienti nuove però vabbè lo faccio ancora sperando sì appunto di continuare a fare qualche ordine perché appunto che mi compra di questa azienda sono praticamente due o tre persone non di più però forse sono anch'io che non mi preoccupo ecco di cercare altra gente anche perché lavorando già con Avon sono contenta di fare ordini abbastanza grandi con quell'azienda però vabbè questi sono sempre prodotti fantastici quindi mi dispiacerebbe anche smettere adesso vedrò sperando che con l'estate magari mi chiedano un po' più cose non lo so e nulla ragazzi vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo un po' più cose